Un'occasione persa per fare il salto di qualità, lo dice Roberto Galli, presidente provinciale di Federalberghi in vista delle Olimpiadi 2026. L'auspicio per l'albergatore è che in questi tre anni si possa recuperare il tempo perso per il turismo. Dal momento in cui sono state assegnate le Olimpiadi, l'aspettativa di un albergatore, quello più che aumentare la recettività in termini quantitativi, ci sarebbe piaciuto e ci piacerebbe aumentarlo in termini qualitativi, nel senso che in tutta la Valtellina su 400 alberghi abbiamo solo 5 stelle, quindi secondo noi non è un bellissimo biglietto da visita per le Olimpiadi, quindi ci aspettiamo da subito degli aiuti in termini finanziari che non sono mai arrivati, è veramente piccola e quindi fare degli investimenti tra determinate zone è difficile. Probabilmente avremo altri 1, 2, 3, 4 stelle al massimo per il periodo olimpico, ma non di più, quindi questo per noi è un po' un handicap. Ci miglioreremo tutti a livello di formazione, di lingue, di utilizzo di software e quant'altro, però secondo me stiamo perdendo, abbiamo perso un po' un pochino l'occasione di fare veramente il salto di qualità. Adesso i tempi sono molto ristretti, quindi anche dal punto di vista di promozione del territorio, di cui poi faccio anche io parte della macchina un po' organizzativa a quel punto di vista, per una serie di motivi siamo molto in ritardo, speriamo adesso con riassetto anche un po', adesso è stato eletto nuovo Presidente della Provincia, eccetera, eccetera, dovrebbe sbloccarsi la situazione e cerchiamo un po' in corner di recuperare e cercare di fare comunque bella figura.